Buongiorno a tutti, questa sarà una video review ho appena ricevuto il mio pacchettino di perline ordinate sul sito 1000 luci stones nel quale vi metterò tutti i riferimenti sotto il video ci tengo a precisare, perchè per me questa è una cosa fondamentale credo anche per chi ha il mio stesso hobby sia la stessa cosa, è la celerità con cui arriva il pacco delle perline sappiamo che i tempi giustamente devono poter essere dei tempi ragionevoli sia per quando facciamo l'ordine, sia quando confermiamo i pagamenti sia quando parte il pacco, stiamo lì subito a monitorarlo quando arriverà, quando non arriverà ecco io vi dico che ho fatto l'ordine nel primo pomeriggio quindi non voglio sbagliare, credo verso l'una e mezza alle due il pacco è partito il giorno stesso, il giorno dopo l'avevo qui in ufficio quindi questa cosa mi rende elettrizzata perchè almeno ho subito a disposizione quello che mi occorre allora, vi mostro cosa ho acquistato allora, vi dico che questa volta sono stata molto monotematica nei colori perchè avevo bisogno di riprendere appunto questi colori che avevo terminato e qualche colore che mi serviva ma effettivamente sono stata, ripeto, un po' monotona nei colori proprio perchè sono tutti sullo stesso tono e similari allora, la prima cosa che vi voglio far vedere se vedete che alcuni pacchettini e le etichette sono rotte perchè non è la prima volta che registro questo video ma la prima volta non si sentiva nulla è la mia solita fortuna quindi ho richiuso tutte le etichette mi sono impazzita allora, ho preso i Ripoli Swarovski White Patina il codice è questo che non avevo ancora preso e ve li voglio mostrare da un cibo sono da 14 mm e sono fantastici allora, hanno una base in crystal quindi è un crystal ed è questa patina che c'è sopra che gli dà questa finitura molto riflessata non so se avete presente i vecchi specchi quando fanno quella patina antica da sopra ecco, qui in questi Ripoli vi trovate praticamente la stessa identica finitura e poi sono veramente, veramente luminosissimi quindi questo è stato proprio un acquisto ottimo, ottimo e chi mi conosce sa poi qual è la è la mia grande passione per i Caposson e i Ripoli poi ho preso due colorazioni di pellet adesso trovo la seconda eccola qui allora, ho preso questo qui che è un turchese eccola qui è infinitura boreale vedete, è di base color turchese e poi ha queste striature come se fossero un jet AB molto molto belle e queste sono dorate matte metallic con le finiture leggermente sì, non sono proprio sì, diciamo un matte è un matte il codice è questo qui non c'è l'edichetta ma l'hanno scritto qui e questi sono i due toni di pellet poi ho preso dei toni di Super Duo da serie mamma allora, ho preso questo colore qui che è bellissimo è questo blu in videocamera si vede più scuro in realtà di quello che è il codice è questo e questo è anche il colore il matte sweat blue vediamo se riesco a farvelo vedere sulla mano ecco, ecco esattamente così come lo vedete in questo momento è veramente eccezionale diciamo che è come fosse un blue jeans metallico ed è bellissimo perché questo colore si riesce ad utilizzare bene sia in inverno che in estate poi sempre per quanto riguarda le Super Duo ho preso questa finitura d'oro che è matte metallic gold tipo l'oro a seco quindi questo oro veramente diciamo sparato non è pallido in realtà questo si vede più pallido di quello che è in videocamera vediamo se se questo riesco a farvelo vedere come ho fatto con il blu questo è un po' più acceso di come in realtà è in videocamera però per esempio questo questo abbinamento di colori guardate mi piace tantissimo e quindi le ho prese però non avevo questa tintura d'oro così accesa sempre Super Duo ho preso queste Last Red Coral Red sono è un tono di rosso molto molto perlato molto lucido soprattutto che non avevo quindi era la ricerca di colorazioni di Super Duo che mi mancavano e le ho preso queste poi l'ultimo pacchetto di Super Duo è il blu e matite eccolo qui il codice è questo è della stessa gamma del rosso molto molto lucido ed è un altro tipo di blu quello di che avevo assolutamente terminato poi ho preso in sempre in oro quindi le Hobbits sono 5 grammi il pacchetto è da 5 grammi brass gold si mette a fuoco che dici? non gli piace va bene ecco questo è esattamente il colore anche questo ha un dorato abbastanza forte un po' più caldo dell'altro punto di oro delle Super Duo ma che mi piaceva particolarmente perché trovo che i colori pieni e forti all'interno di lavorazioni come per esempio questa qui si notino molto di più questo qui per esempio è un argento che è metà transparent e metà pieno e secondo me non si nota tanto mentre nel caso di berline come questo il risultato è più vistoso quindi li ho prese in questo tono di oro eccolo qua brass gold questo è il codice e di nero e questo è un oggetto quindi è un nero molto lucido sempre per rimanere in tema di oro ho preso i mezzi cristalli da 3 mm sempre in finitura matt metallic sono 60 pezzi ogni bustina li ho presi così sempre matt metallic li ho presi in rame quindi in copper e sempre in un tono dell'oro che è molto più vicino a quello delle hobbits da 4 mm sono sempre 60 pezzi e il codice è questo poi ho voluto provare sempre oro le keops le keops anzi plurale keops le nuove perline che vengono prodotte su richiesta di puka che è una creativa e le perline si presentano in questo modo adesso non so se riesco a farvele vedere bene allora ci sono due fori passanti quelli qui che passano per la lunghezza del triangolo e quindi troviamo un foro qui e un foro di là io mi rendo conto che non si vedrà nulla perché sono veramente piccine cioè in realtà non è che sono piccine sono io che non riesco a mostrarvele quindi il non se c'è un ago c'è sempre gli aghi appuntati eccolo qua sui tappetini quindi ecco passa così e ovviamente nella parte opposta ci sono gli altri due forellini allora i pezzi in questa bustina non so quanti sono sono da 10 grammi e la misura è da 6 mm la misura credo sia solo questa non credo vanno prodotte in altre misure vi lascio il il codice questo è un nuovo tipo di perlina che volevo provare sempre parlando di nuove perline ho preso le perline piramide grandi perché ci sono anche piccoline io avevo visto su una rivista credo beadwork in bracciale non so se era beadwork o bead and button questi queste piramidi le ho trovate in questa finitura che è bellissima e hanno anche queste due fori quindi due fori passanti ne ho presi due confezioni perché all'interno di ogni pacchetto ce ne sono 5 la misura è 12-12 e il colore è jet AB poi ho preso sempre su quei toni ho preso 10 grammi di perline 15-0 del duracot dorate sempre oro Miyuki e poi ho preso le delica opaque beige Ceylon che è questa finitura molto lucida non so se si piace a vedere bene che avevo terminato e quindi le ho riprese sempre parlando di perline cieche e un vetro prestato ho preso questi due colori di tulip sono ognuno da 30 pezzi misurano 6x8 questa è una finitura AB quindi in crystal AB mentre questa qui è una finitura in crystal apricot medium diciamo un topaz AB caldo tendente all'albicocca appunto sono molto carine io queste le uso per realizzare dei fiorellini che poi vado a a cucire sopra la seta shibori o nei collarini o in embroidery perché fanno sì che la rifinitura sia più carina rispetto non so magari a un cabochon in plastica fiorellino che voi attaccate sopra poi ho preso le tile che sono come le tile amiyuki sono più cicciottose diciamo così e hanno la stessa finitura delle super duo questo è un colore eccolo qui l'astered marmol green sono 50 pezzi misurano 6 mm anche queste ho visto molti bracciali realizzati con queste e volevo inventarmi qualcosa poi ultimo colore di rocaille 11.0 opac jet da 10 pacchetti da 10 grammi e queste però sono delle toku e niente le ho comprate perché il nero io non lo uso moltissimo però ogni volta che lo compro poi me lo perdo penso che avrò delle scorte a casa enormi di perline nere ma che non trovo mai allora poi ho comprato questo filo di perle da 6 mm che avevo già comprato in altri colori solo che il rosso mi mancava eccolo qui è molto meno acceso di quello che compare in videocamera perché mi sono accorta che il rosso non lo compro mai e mi hanno chiesto un bracciale rosso e quindi ne ho approfittato subito per prenderle l'avevo presa già sia da 6 che da 4 che da 8 mm dal loro sito e mi ce l'ho trovata bene quindi le ho riprese il filo contiene 68 perline eccole qui sono in metro il codice è questo poi ho preso le catene perché volevo provarle ho visto che i prezzi non erano alti assolutamente e quindi ho preso questa qui in alluminio il pacchetto è da 2 metri ecco color argento la misura è 4 per 8 più o meno ed è questa è leggerissima ed è un grigio molto bello sembra quasi un satinato da questo effetto è molto bella ed è molto molto leggera e poi so che essendo alluminio non cambierà mai colore e visto il prezzo mi sono quasi pentita di non averne presi di più e poi invece sempre parlando di catena ho preso questa qui in semplice metallo che è la classica rollo è molto sottile perché ho molte catene importanti ma poi finisco sempre per mettere queste qui eccola qui è da 2 metri è da 2,5 l'anellino eccola qui visto che faccio sempre ciondoli molto importanti preferisco mettere una catena più sottile per lasciare importanza al ciondolo poi ho preso gli aghi io li compro ogni volta che faccio un ordine soprattutto quando trovo questi uso soltanto questi e i miei yuki questi perché effettivamente hanno proprio un costo bassissimo quindi preferisco che mi restino sempre di scorta e questo è il codice ho preso la misura 10-12 perché almeno all'interno ho 6 aghi ma con almeno 2 misure diverse questi mi cazzano perché sono lunghi e io non riesco a lavorare con degli aghi troppo corti ecco mi sfugge mi sfugge sempre e i miei acquisti sono terminati vi faccio vedere invece scegli gli omaggi perché come al solito sono sempre molto molto generosi allora vi faccio vedere cosa mi hanno mandato mi hanno mandato vedete poi loro mettono omaggio mi hanno mandato un filo di perle da 6 mm bianche come quelle che avevo perso nello scorso ordine praticamente uguale a queste qui rosse ma io il bianco lo so tantissimo quindi queste spariranno in me che non spiega quindi grazie mille poi mi hanno mandato questo pacchettino di perle miste che io adoro io nell'ordine precedente se andate a rivedere il video ne ho comprati di diversi colori e sono sparite sono andate a ruba perché semplicemente anche facendo del semplice assemblaggio quindi degli orecchini con più componenti dei bracciali o delle collane risultano avere un effetto veramente molto molto bello perché sono molto rifinite pur essendo resina è innanzitutto resistente dipinta bene non scheggiata da nessuna parte e con queste rifiniture così screziate dorate vi assicuro che fanno veramente un bel effetto meno male che me le hanno mandate loro come omaggio perché effettivamente aveva fatto degli orecchini per me rossi ma poi l'hanno visto delle mie amiche e quindi sono andate a ruba poi poi con la mia sorpresa sono arrivati anche dei pacchettini di piattine allora l'hanno mandato in questo color crema ecco qui marrone marrone quindi in tinta in contrasto con quelle precedenti le hanno mandato in turchese da bellissimo questo colore e in celeste quindi prima di tutto sono dei colori che si accoppiano benissimo tra di loro in qualsiasi modo li mettiamo e poi non è aspettavo un metro al massimo come maggio ma sono io non so quanti sono ma sono tantissimi comunque io vorrei innanzitutto ringraziare loro per per loro servizio perché veramente come ho detto all'inizio per me la celerità con cui arriva un pacchetto diventa fondamentale quando lavoro e con i tempi che ho per lavorare perché per me è un hobby però in realtà io lavoro tutto il giorno quindi il fatto che arrivi un pacchetto celermente mi dà anche modo di adattarmi bene con le mie tempistiche giornaliere perché tutto nel pacchetto era sistemato in una maniera certosina veramente messo meraviglioso cioè soltanto se aprite il pacchetto e lo vedete vi rendete conto di come viene imballato e poi per gli omaggi perché veramente sono degli omaggi generosissimi io spero spero di avervi invogliato gli acquisti spero di avervi dato delle informazioni utili per acquistare su questo sito come ho detto all'inizio vi lascio tutti i riferimenti nel video qui sotto per qualsiasi domanda avete voglia di farmi sui materiali che ho acquistato potete scrivermi o sotto al video o nella mail o su facebook e per qualsiasi altra informazione avete anche i riferimenti del negozio quindi per oggi è tutto vi do appuntamento al prossimo video con il quale vi farò vi mostrerò quello che ho realizzato con queste cose che ho acquistato quindi vi do appuntamento a presto ciao 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 ciao